Torniamo un attimo alla partita di Foggia. All'atteggiamento che ha avuto la tua squadra, era un po' studiato, diciamo, quello magari di uscire nel secondo tempo oppure non sei contento di qualche atteggiamento che la squadra ha avuto rispetto a quello che avevi programmato? L'atteggiamento, giocando con un attacco veloce, abbiamo deciso di difendersi un po' più bassi e ripartire. Probabilmente abbiamo fatto qualche errore tecnico in più e non abbiamo sfruttato appieno il campo che ci lasciava l'avversario. Nonostante questo credo che abbiamo rischiato solo su due calci piazzati, quindi il problema è che non sempre si può giocare 90 minuti a tavoletta, ci sono anche gli avversari, ci fa piacere che quando noi non lo facciamo si evidenzi in maniera importante perché si vede che spesso siamo riusciti a fare molto di più nell'arco dei 90 minuti. Il primo tempo era finito 0-0 e noi siamo entrati in campo sicuramente meglio. Nel secondo tempo abbiamo, la prima occasione pericolosa l'abbiamo creata noi con Maggiore, poi abbiamo avuto, loro hanno avuto, per la verità la prima occasione l'hanno avuta loro su calcio piazzato, un altro calcio d'angolo dove siamo stati, dire il vero, un po' disattenti perché hanno fatto lo stesso schema e per ben due volte sono arrivate al tiro. Gli abbiamo commesso, ripeto, qualche ingenuità, qualche disattenzione. Poi con questo pericolo magari abbiamo aumentato un po' il ritmo e abbiamo creato anche i presupposti per vincere la partita. Partita che se non ci fosse stato forse l'errore arbitrale, gli errori arbitrari avremmo vinto. È un peccato perché, ripeto, io nell'arco di un anno non parlo, parlo il meno possibile degli arbitri, soltanto quando sono proprio evidenti gli errori, non è che ci sono dubbi. Quando sono evidenti è normale che c'è rammare, perché tutti noi allenatori vorremmo perdere o vincere con i nostri errori, con i nostri limiti, con le nostre ingenuità. Però nell'arco di 7-8 minuti due errori così importanti sicuramente ci hanno penalizzato.